Per gli amici del basket siamo qui oggi con Coach Vertemati. Coach, con la zona avete cercato di creare qualche problema a Scafati. All'inizio ci siete anche riusciti, poi Scafati ha forse trovato la chiave per portare a casa questi due punti. Prestazione comunque ottima, considerando il fatto che avete comunque un americano in meno. Ma sì, con la Zabbia abbiamo cercato di contenere i problemi di falli che, viste le rotazioni assai ridotte e tra i maturi due falli di due dei nostri, i quattro esterni, abbiamo dovuto fronteggiare. Quindi abbiamo usato la zona che onestamente non avevamo pensato di utilizzare come piano partita, ma visto che Prascinetti si è fermato all'escaldamento e non avendo Roberts, come ho detto prima, l'abbiamo usata. Abbiamo un po' fermato il ritmo di Scafati, non potevamo pensare che resistesse 40 minuti. Avremmo dovuto trovare qualcosa che non abbiamo trovato offensivamente. Non posso dire molto ai ragazzi, se non che paghiamo, al di là delle assenze, anche un pizzico di inesperienza nella gestione di alcune situazioni. Grazie mille, Coach. Buon rientro e buona fortuna. Grazie.